Preparatevi a sospirare! Emily in Paris è appena diventata molto più interessante. Ecco a voi Eugenio Franceschini, l'ultimo rubacuori a onorare i nostri schermi. Questo stallone italiano è pronto a sconvolgere il mondo di Emily. Interpreta un personaggio di nome Marcello e diciamo solo che le scintille stanno per scoppiare. Eugenio porta un tocco di fascino italiano al mondo già glamour di Emily in Paris. Emily si troverà divisa tra due amori? Una cosa è certa, questa stagione sarà rovente! Eugenio Franceschini è un vero figlio d'Italia. Nato e cresciuto a Roma, incarna la passione, il fascino e la gioia di vivere per cui il paese è conosciuto. Crescendo nel cuore di Roma, Eugenio è stato circondato da storia, arte e cultura. Era un ambiente che nutriva la sua creatività e immaginazione. Fin dalla giovane età è stato attratto dalle arti dello spettacolo. Amava esibirsi per la sua famiglia e i suoi amici, imitando i personaggi che vedeva nei film e in tv. Il suo talento naturale e il suo carisma erano innegabili. Il percorso di Eugenio nel mondo della recitazione è iniziato durante l'adolescenza. Si è unito a una compagnia teatrale locale, desideroso di affinare le sue capacità ed esplorare il mondo della recitazione. Il palcoscenico è diventato il suo santuario, un luogo dove poteva trasformarsi in diversi personaggi e dare vita alle storie. Il suo talento naturale era evidente e non passò molto tempo prima che attirasse l'attenzione di un talent scout. Questo incontro gli avrebbe cambiato la vita per sempre, aprendogli le porte al mondo della recitazione professionale. Ben presto, Eugenio si ritrovò a fare audizioni per ruoli in film e serie televisive italiane. Il palcoscenico era stato il suo campo di allenamento e ora era pronto a conquistare lo schermo. La stella di Eugenio ha iniziato a brillare nell'industria dell'intrattenimento italiana. Ha ottenuto ruoli in diverse serie tv popolari, mostrando la sua versatilità e la sua gamma come attore. Uno dei suoi ruoli da protagonista è stato nel film acclamato dalla critica Minevaganti, diretto da Ferzan Özpetek. La performance di Eugenio nel film è stata acclamata dalla critica e gli avalsa il riconoscimento nel circuito dei festival cinematografici internazionali. Con ogni ruolo, il talento di Eugenio brillava sempre di più. Aveva una capacità naturale di entrare in contatto con il pubblico, dando vita ai personaggi con profondità e autenticità. Il mondo si stava accorgendo di questo talentuoso attore italiano. Alla conquista di nuovi territori, avventurarsi in acque internazionali. Non contento di limitarsi all'industria cinematografica italiana, Eugenio ha puntato gli occhi su Hollywood. Ha iniziato a prendere lezioni di inglese, perfezionando il suo accento e immergendosi nella cultura americana. Ha iniziato a fare audizioni per ruoli in produzioni americane, desideroso di mostrare il suo talento a un pubblico più ampio. Il suo duro lavoro è stato ripagato quando ha ottenuto un ruolo nella serie Netflix e Medici. Questo ha segnato una svolta nella sua carriera, aprendogli le porte a nuove opportunità e collaborazioni nell'industria cinematografica internazionale. Oui! Oui, Parigi! L'audizione per Emily in Paris e l'ottenimento del ruolo. Eugenio sapeva di doverci provare. Lo show, una commedia romantica ambientata nel cuore di Parigi, era perfetto per lui. Il processo di audizione è stato rigoroso. Ma lui era preparato. E poi è successo. Il telefono è squillato e l'agente di Eugenio gli ha dato la notizia. Aveva ottenuto il ruolo. Questa era la sua occasione per brillare su un palcoscenico globale. Ciao Marcello! Approfondimento del personaggio di Eugenio in Emily in Paris. In Emily in Paris, Eugenio interpreta il ruolo di Marcello, un italiano affascinante ed enigmatico che cattura l'attenzione di Emily. Marcello è tutto ciò che Emily non sapeva di star cercando. Da talentuoso artigiano, Marcello porta un tocco di fascino antico al frenetico mondo del marketing e dei social media in cui Emily si muove. Sconvolge le sue percezioni e la introduce a un lato diverso della vita parigina. La loro connessione è innegabile, aggiungendo un livello di complessità alla già complicata vita sentimentale di Emily. Marcello è più di un semplice interesse amoroso. È un catalizzatore per la crescita personale e professionale di Emily. L'intesa tra Eugenio e Lily Collins Dal momento in cui hanno condiviso la loro prima scena, l'intesa è stata palpabile. La loro connessione sullo schermo è elettrica. Portano una naturalezza e un'autenticità alle loro scene. Fuori dallo schermo hanno sviluppato una forte amicizia. Si sono sostenuti a vicenda durante le riprese. Gli spettatori fanno il tifo per Emily e Marcello. Oltre la macchina da presa, la vita di Eugenio fuori dal set. Quando non è impegnato ad affascinare il pubblico, Eugenio si gode una vita appagante lontano dai riflettori. È un avido viaggiatore, sempre desideroso di esplorare nuove culture. Il suo profilo Instagram è pieno di splendide fotografie dei suoi viaggi. Fermo sostenitore della comunità, Eugenio sostiene diverse organizzazioni benefiche. La sua natura con i piedi per terra ne fanno un modello per aspiranti attori e fan di tutto il mondo. Uno sguardo al futuro Prossimi progetti e aspirazioni Con la sua stella in ascesa, Eugenio ha una serie di progetti entusiasmanti in programma. Attualmente sta girando un nuovo film italiano, esplorando un ruolo più drammatico che mette in mostra la sua versatilità come attore. È anche in trattative per recitare in un prossimo film indipendente americano, desideroso di consolidare ulteriormente la sua presenza a Hollywood. Oltre alla recitazione, Eugenio nutre la passione per la sceneggiatura e la regia. Attualmente sta sviluppando i suoi progetti, traendo ispirazione dalle sue esperienze personali e dalle sue osservazioni del mondo che lo circonda. Le ambizioni di Eugenio non hanno confini. Il fascino intramontabile di Eugenio Franceschini Cosa affascina il pubblico di tutto il mondo di Eugenio Franceschini? Forse è il suo innegabile fascino, la sua capacità di illuminare lo schermo con il suo sorriso contagioso e i suoi occhi scintillanti. O forse è il suo talento naturale, la sua capacità di scomparire nei ruoli e dare vita ai personaggi con profondità e autenticità. Potrebbe essere la sua personalità con i piedi per terra, il suo calore genuino e l'umiltà che trasparano nelle interviste e nelle interazioni con i fan. Qualunque sia la ragione, non si può negare che Eugenio Franceschini sia una stella in ascesa. Una stella in ascesa. Cosa riserva il futuro a Eugenio? Mentre la carriera di Eugenio continua a decollare, una cosa è certa. Il futuro riserva infinite possibilità a questo talentuoso attore. Con il suo innegabile fascino, la sua abilità recitativa e la sua dedizione al suo mestiere è destinato a diventare un nome familiare nell'industria dell'intrattenimento globale. Possiamo aspettarci di vederlo abbellire i nostri schermi per gli anni a venire, affascinando il pubblico con le sue interpretazioni e lasciando un segno indelebile nel mondo del cinema.